Riparare agli errori di un contratto siglato in data 1 febbraio 2013 tra il comune di San Ferdinando di Puglia e la SIA, ritenuto dal TAR inadeguato e sottostimato. Un errore cui bisognava da tempo porre rimedio oggi, diventata priorità dell'amministrazione Puttilli, che ponendosi in linea e in piena sinergia con la regione Puglia, ha deciso di rivedere il contratto incentivando al contempo un sistema premiante per i cittadini più virtuosi. Seppur un punto rimane fermo, ovvero quello che inevitabilmente la TAR subirà un aumento pari a 500-600 mila euro annui, obiettivo sarà ripristinare un contratto di servizio per la raccolta, il trasporto, lo spazzamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati che sia ottimale. A riferire di importanti novità ponendo fine a quelle che ha definito sterili polemiche lo stesso sindaco Salvatore Puttilli in conferenza stampa. Il momento delle polemiche lascia il tempo che trova perché ovviamente le responsabilità in tal senso di chi mi ha preceduto sono chiare, lampanti e sono sotto gli occhi di tutti anche dal punto di vista documentale. Il problema è che noi dobbiamo guardare avanti adesso, dobbiamo guardare avanti rispetto a un contratto che non ci soddisfa più e non soddisfa le esigenze della regione di avere dei nuovi contratti di Aro che osservino la disciplina regionale in materia, la carta dei servizi regionale e che debbano consentire appunto a tutti i comuni del Consorzio di avere un'attività unitaria dal punto di vista della virtuosità del sistema di gestione raccolta dei rifiuti. In questo senso noi ci poniamo, come dire, un cambio di rotta nel senso che dobbiamo, programmiamo sulla base dei nostri indirizzi programmatici una scelta virtuosa e premiante della gestione dei rifiuti in quanto tale. Da questo punto di vista saremo, tra virgolette, costretti ad adeguare un contratto che è inadeguato e sottostimato, così come è sancito, da svariate sentenze ma anche da svariati deliberati del Consorzio. Deliberati tra l'altro in cui altri deliberarono per noi, qui torno un attimo alla polemica, in assenza del rappresentante legale dell'epoca che inspiegabilmente si assentò in una delibera che era fondamentale. Un'occasione anche per anticipare la presentazione alla città, prima ancora che in Consiglio Comunale, del bilancio il prossimo 22 gennaio. I progetti sono davvero tanti. Il completamento del nuovo campo sportivo comunale con l'erbetta, con la modernizzazione della struttura che unitamente alla piscina già inaugurata qualche anno fa e al palazzetto dello sport che improvvisamente in due tre mesi è stato edificato dopo che per cinque anni era stato tenuto fermo, nonostante io avessi fatto i mutui per finanziare quell'opera. La Fogna Bianca, abbiamo un progetto di quasi 5 milioni di euro che ancora già c'è fermo presso gli uffici, il progetto del teatro comunale, abbiamo tutta una serie di progettualità che io lasciai e che abbiamo intenzione di intraprendere. Una nuova e importante sfida è quella della nuova programmazione dei servizi sociali.